Anche quest'anno gli accessi alla spiaggia della Pelosa di Stintino dal 1 giugno al 30 settembre saranno consentiti su prenotazione e limitati a un numero massimo di 1.500 al giorno con un costo di 3,50 euro a persona con esenzione per i minori fino a 12 anni. L'importo permette la fruizione gratuita dei servizi igienici e delle docce. Come in passato sarà obbligatorio l'impiego delle stuoie e l'utilizzo dei lavapiedi all'uscita dalla spiaggia. A giudicataria della concessione alla gestione è la cooperativa sassarese Vosma che come l'anno scorso dovrà operare il controllo degli accessi, della prenotazione e pagamento, dei servizi alla balneazione, dell'accessibilità per i diversamente abili, della manutenzione dell'arenile e delle infrastrutture. Alla spiaggia della Pelosa abbiamo dedicato grande attenzione e risorse perché crediamo in un suo recupero. Andiamo avanti anche con il progetto per l'eliminazione della strada asfaltata, dichiara il sindaco Antonio Diana. Un salto di qualità per l'immagine di questa nota e rinomata spiaggia è per la tutela del bene ambientale, ribadisce il vice sindaco Angelo Schiaffino. La stagione si presenta interessante malgrado il covid sostiene l'assessore al turismo Francesca De Montis e noi ci presenteremo anche con il museo della Tonnara e il rinnovato ufficio turistico.